In primo piano, al centro, il caso Rimini-Yacht, 15 rinviati a giudizio. La cronaca, ancora Rimini-Yacht, a luci rosse, vittima un artigiano sessantenne che però denuncia. E parleremo anche di mobilità, in Emilia Romagna, treni pendolari attaccano, basta aumenti. Ed infine torniamo a Rimini per parlare del SIGEP che è stato inaugurato questa mattina alla Fiera di Rimini. Ben ritrovati con la nostra informazione, dunque questi principali titoli del nostro telegiornale. Lo avete visto in primo piano. Torniamo ad occuparci della vicenda Rimini-Yacht, 15 rinviati a giudizio. Ci racconta tutto meglio nel servizio Marcello Bartolini. 15 rinviati a giudizio, 10 proscioglimenti. Sono le decisioni del GUP Alberto Ziroldi all'esito dell'Ughienza preliminare che si è tenuto in tribunale a Bologna per la bancarotta di Rimini-Yacht, società fondata da Giulio Lolli, tuttora latitante in Libia. L'ex patron aveva già patteggiato per i dati contestati le persone accusate di aver distratto in concorso e con lui fondi per svariati milioni di euro dai conti della società fallita nel 2010. Sono presunti prestanomi, commercialisti, amministratori di altre società e membri del collegio sindacale. Tre imputati hanno invece scelto in rito abbreviato. Uno di loro, difeso dall'avvocato Mariano Rossetti, è stato condannato a due anni di reclusione e pena sospesa. Gli altri due, il primo, difeso sempre dall'avvocato Rossetti e da Paolo Righi, il secondo dall'avvocato Ludovica Iuric, sono stati assolti. Altri tre imputati, difesi dagli avvocati Patrizio Orlandi, Ettore Antonio Di Lustro e Dario Bolognesi, hanno patteggiato pene da un anno e quattro mesi ai due anni di reclusione. Il dibattimento prenderà il via il 18 maggio davanti al collegio della prima sezione penale. L'inchiesta è stata coordinata dal pubblico ministero Antonella Scandellari, parte civile del fallimento di Rimini-Yacht, assistito dallo studio Zincani. Al culmine di un litigio per futili motivi ha scaraventato dal balcone la convivente, è accaduto ieri sera in un appartamento di Bagna Cavallo nel Ravennate, dove i carabinieri, avvisati dai vicini, hanno arrestato un 37enne nigeriano per tentato omicidio a cravato e anche lesioni. La donna, una connazionale di 36 anni, è caduta al suolo dal primo piano in ospedale con sospette fratture, ma non si trova in pericolo di vita. L'uomo, come disposto dal PM di turno Cristina Daniello, è stato portato in c'è. Andiamo ancora avanti. La cronaca Rimini, parliamo adesso di un ricatto a luci rosse vittima un sessantenne che però ha denunciato il tutto alla polizia, i particolari nel servizio. Doveva essere soltanto una scappatella, ma alla fine l'uomo si è ritrovato invischiato in una serie di ricatti, vittima un sessantenne. Stando quanto emesso, come riporta il quotidiano online Rimini Today, l'uomo e il suo ricattatore si conoscono nel 2013, quando quest'ultimo diventa il vicino di casa dell'artigiano. Un'amicizia come tante, e tra le chiacchiere i due iniziano ad affrontare anche argomenti piccanti sulle donne. E' a questo punto che il vicino, anche lui sessantenne, racconta all'amico di aver conosciuto una bellissima ragazza dell'Est Europa, con la quale ha avuto dei rapporti extracognugali. In vogliato dai racconti dell'amico, anche l'artigiano decide di provarci, ma dopo aver consumato il rapporto sessuale, cominciano i guai. L'amico vicino di casa inizia a minacciare il sessantenne di rivelare tutto alla moglie se non gli avesse comprato una nuova vettura e consegnato una cospicua somma di danaro. L'uomo, con la complicità dell'escort, aveva anche effettuato delle registrazioni compromettenti dalla scappatella. Ma invece di cedere al ricatto, la vittima ha deciso di rinunciare tutto alla polizia. Dalle indagini era emerso che sia la escort che il vicino di casa avevano ricattato e minacciato anche una donna. L'uomo avrebbe favorito la prostituzione da ragazza segnalando ai potenziali clienti i loro numeri di telefono. Per le accuse di tentata estorsione e sfruttamento della prostituzione, il sessantenne, che aveva fornito anche un appartamento dove prostituirsi sia alla ragazza dell'Est Europa che ad altri giovani, ha patteggiato un anno e sei mesi con la sospensione della pena. Mentre ancora da definire la posizione dell'escort, per lei è stato chiesto il rinvio a giudizio per tentata estorsione. Ancora a Ravenna, in un solo mese, più di 1500 messaggi, oltre a numerose telefonate a post sui social network scritti sotto pseudonimo, tutti indirizzati alla nuova compagna del marito, una donna di faenza, per invitarla, con toni ritenuti minacciosi, a troncare la relazione con l'uomo. Dopo un'assimilazione dell'ex consorte, un 57enne di Forlì, ma di fatto domiciliato a Faenza, la nuova compagna, la polizia del commissariato Faentino ha identificato e denunciato una 58enne di Forlì in popoli per atti persecutori nei confronti dell'ex e della nuova compagna di questi. Secondo gli inquirenti, la donna non aveva mai accettato la separazione dal marito. E adesso invece parliamo di criminalità organizzata perché sia la deputata dell'Unimento 5 Stelle, la riminese Giulia Sarti, che la collega, la consigliera regionale pentastellata Raffaella Sensoli, sul tema dicono in Romagna, in particolare a Rimini, dopo l'arresto della donna chiamata, conosciuta come Lady Camorra, dicono che l'attenzione sul territorio deve restare sempre molto alta, in particolare nel servizio. Ancora soddisfazione per l'arresto di Maria Buttone a Rimini, conosciuta come Lady Camorra, manettata nei giorni scorsi dai carabinieri. Ma l'episodio scrivono Giulia Sarti, deputato del Movimento 5 Stelle, componente della Commissione Antimafia, e Stefania Sensoli, consigliere pentastellata in Regione, getta preoccupazione per il territorio riminese e per questo l'attenzione deve restare alta. La Buttone, moglie di Domenico Belforte, capo di uno dei clan più pericolosi in campagna, appunto il clan Belfort, è stato l'obbligo di residenza fuori dal suo comune ad averla portata a Rimini, dicono, ma grazie al lavoro degli investigatori di Caserta il suo dominio criminale è finito. Giulia Sarti, membro del Movimento 5 Stelle, sottolinea come Rimini deve tenere alta la guaria contro la Camorra, gli ordini impartiti da lei di Camorra erano rivolti verso il suo territorio, ma nella lotta alle mafie non ci sono distinzioni territoriali, bisogna essere uniti, dice, non considerarsi, ma immuni da questo cancro sociale. Le donne all'interno della Camorra rivestono tranquillamente ruoli di dominio, nel momento del bisogno queste vicende non devono passare inosservate, scrivono, ultimamente si è discusso molto del processo Emilia, che ha dimostrato lo stabile radicamento di consorterie mafiose, cercando però di metterlo a tacere. I continui arresti cui assistiamo, dicono Sarti e Sensoli, come quello della moglie di Belforte, rilevano la capacità delle mafie di espandersi sempre più verso nuovi territori. Non ci deve essere solo la risposta della magistratura, ma di tutti i cittadini. Dobbiamo avere tutti come faro la legalità, denunciare per fare in modo che i mafiosi diventino corpi estrani alla nostra società civile. Raffaella Sensoli aggiunge che la Regione, insieme ai Comuni, può incidere una nota al crimine organizzato, facendo leva anche sull'osservatorio regionale appositamente creato, che deve comunicare con gli altri osservatori locali e con le banche e dati dei ministeri. Quanto emerge dall'operazione le forze dell'ordine non potevano essere attenzionato all'osservatorio, dice, dove i dati delle persone, oggetti e i provvedimenti limitativi della libertà, quali l'obbligo di residenza fuori dal suo comune, devono essere contenuti. Questi dati, conclude, devono essere condivisi dalle varie amministrazioni locali e centrali per attenzionare questi soggetti affinché non riproducano su altri territori metodi e organizzazioni malaffari per i quali sono stati allontanati dai propri luoghi d'origine. Il Tribunale dell'esame di Rimini accoglie ricorso dei legali del gruppo Cocoricò SRL Luigi Chiappero Alberto Borbone, ordina dei dissequestri dei Marche Cocoricò e Titilla, la società di gestione della nota discoteca. Il suo proprietario Fabrizio De Mey sono stati riconosciuti estranei, si legge alle evasioni di imposte contestate ai precedenti gestori della discoteca, le contestazioni che avevano portato al provvedimento di sequestro preventivo dei Marche effettuato dagli inquirenti lo scorso dicembre. Soddisfatti della decisione dei giudici, degli appelli e dei riesami, gli avvocati Chiappero e Borbone, l'accoglimento, dicono, del nostro ricorso dimostra come l'attuale società di gestione del locale Fabrizio De Mey se siano completamente estranei i fatti sui quali stanno indagando e procedendo Procura di Rimini e anche Polizia Giudiziaria. E ora invece parliamo di mobilità, lo avete visto anche nei titoli, in questo caso parliamo dei treni dell'Emilia Romagna, i pendolari regionali lanciano l'attacco e dicono basta aumenti, in questo caso per quanto riguarda gli abbonamenti. Allora ci racconta tutto meglio nel servizio Alessio Bertini. Un rincaro per chi prende il treno del 35% è una rivolta generalizzata, primi pendolari. Ora il Niet sta arrivando via via anche dagli amministratori locali ed è approdato in conferenza Stato-Regioni. A portarlo su quel tavolo il suo presidente Stefano Bonaccini, governatore della nostra regione, quella che fra le prime si è rivoltata contro gli aumenti. Tanto da strappare da parte del ministro dell'infrastruttura e Graziano Del Rio la promessa dell'apertura di un tavolo contro in Italia. Sì, perché dopo il forfè del concorrente NTV, per intenderci Italo, nel settore degli abbonamenti ai pendolari. A fare il prezzo è rimasto solo l'ex monopolista di Stato, che ha deciso per i rincari da quest'anno. Rimaniamo con i prezzi, fra i più bassi d'Europa per sei anni le tariffe sono rimaste invariate, ha sottolineato l'azienda. Ma subito è partita la rivolta delle associazioni che riuniscono i pendolari. Viaggiare da Bologna a Reggio Emilia costerà 57 euro in più. Sulla tratta Milano-Bologna il biglietto passa da 417 a 563 euro. Sulla Milano-Reggio Emilia da 264 a 356 euro, il 35% in più appunto. Una mossa arrivata senza preavviso, sottolinea il Crufer, il comitato regionale dei pendolari, con conseguenze devastanti perché si sposta frequentemente tra città e regioni per studi e lavoro. Un appello subito raccolto dalla Regione Emilia-Romagna, ma c'è chi tenta altre strade. Il Codacons ha depositato un'esposta all'antitrust. Ed ora invece ci spostiamo nelle Marche, precisamente andiamo a Gradara. Prime nozze color arcobaleno per il comune marchigiano. Il borgo medievale ha fatto da cornice l'unione civile tra Marco e Giuseppe. La cerimonia è stata celebrata all'interno del teatro comunale dall'assessore Mariangela Albertini. Siamo felici, hanno dichiarato i due novelli sposi. Dopo otto anni di convivenza, hanno detto, la decisione è stata naturale. La macchina degli adempimenti burocratici, chiarita nel dettaglio dal decreto del governo dello scorso 28 luglio, è partita subito dopo la richiesta congiunta, corredata poi dai dati anagrafici, da una dichiarazione che ha attestato l'insussistenza di cause impeditive alla Costituzione dell'Unione. Andiamo ancora avanti. Bell'Aregge Marina è vicina alle popolazioni del centro Italia, drammaticamente messe alla prova ormai da agosto da una lunga sequela di fenomeni sismici cui si sono aggiunti la neve e il gelo straordinari di questi ultimi giorni. Siamo vicini ai nostri concittadini con l'auspicio che in futuro non si spengono i riflettori su comunità che dopo la fase di emergenza dovranno affrontare una difficile fase di ricostruzione. Così interviene il sindaco Enzo Ceccarelli commentando la dolorosa cronaca proveniente dal cuore dell'Italia. Una vicinanza espressa anche dalla presenza alla fine del 2016 di alcune unità della protezione civile della Polizia Municipale messa a disposizione dalla città che hanno prestato servizio presso i comuni di Montegallo in provincia di Ascoli Piceno e Caldarola in provincia di Macerata dopo il devastante terremoto della scorsa estate ha ricordato il sindaco di Bell'Aregge Marina Bell'Aregge Marina ha visto un'immediata e commossa mobilitazione da parte di private associazioni ed imprese desiderose di offrire il proprio contributo a dimostrazione di una generosità non certo nuova ha concluso il primo cittadino non certo nuova per il nostro territorio. E ora invece parliamo di eccellenze eccellenze culinarie torna anche quest'anno almeno il Circo dei Sapori i particolari nel servizio. Immaginate un colorato tendone da circo davanti al mare all'ombra del Grand Hotel di Rimini omaggio allo spirito onirico di Fellini dentro non ci sono giocoglieri o funamboli ma chef stellati che come trapezisti volteggiano tra i piatti con acrobazie culinarie in una grande cucina a vista è questo il Circo 8,5 dei Sapori cuore pulsante di Almeni il Circo Mercato dei Sapori che il 17-18 giugno tornerà a Rimini tra show cooking stellati street food gourmet mercato dei prodotti d'eccellenza laboratori, degustazioni, gelateria degli chef incontro con autori ed esperti lab store di artigianato è qui che lo chef più premiato di sempre Massimo Bottura chiama raccolta 12 chef stellati della regione Emilia Romagna per farli incontrare scambiarsi i saperi e cucinare con 12 giovani chef internazionali tra i più talentuosi e promettenti al mondo con l'obiettivo di avvicinare la cucina d'autore a un pubblico ampio di curiosi e appassionati l'Emilia Romagna ha una qualità di materie prime talmente straordinarie che spiega Bottura che basta solo che noi cuochi le tocchiamo con rispetto per farle esprimere dall'estero ci guardano e vedono che siamo una regione che sa aspettare 25 anni prima di assaggiare un aceto balsamico tradizionale siamo matti? no sappiamo ancora sognare la festa del gusto prosegue attorno al circo dove speciali punti street food gourmet interpretano la cucina da strada con i migliori ingredienti emiliani e romagnoli e una gelateria stellata fa incontrare la creatività degli chef con il sapere dei maestri gelatieri della Carpiciani Gelato University sul lungomare tra il circo e fino al porto è allestito un vero e proprio mercato delle eccellenze un percorso del gusto tra piccoli e grandi produttori agricoli presi di slow food e mercati della terra da scoprire anche con speciali personal shopper di slow food dove poter assaggiare e acquistare il meglio dei prodotti della regione Emilia Romagna uniche in Europa vantare un paniere di 44 prodotti DOP e IGP riconosciuti anche dai media internazionali come perfetta sintesi della migliore cucina italiana nel mondo e parliamo ancora di eccellenze con Rimini ancora una volta protagonista perché questa mattina al via la 38esima edizione delle SIGEP il salone della gelateria pasticceria artigianale panificazione e caffè leader al mondo organizzato da Italian Exhibition Group la nuova società nata dall'integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza proprio su questa novità si è soffermato al taglio del nastro il presidente Lorenzo Cagnoni che ha detto questa operazione è una novità assoluta che ha dato vita alla prima fiera italiana per redditività e numero di manifestazioni organizzate direttamente la seconda per fatturato e che può fungere da polo di aggregazione per altre realtà con il SIGEP ha aggiunto Cagnoni presente all'inaugurazione insieme al sindaco di Rimini Vignassi iniziamo il 2017 con una prima prova dall'esito quasi certo il SIGEP è leader nel mondo per il settore dell'alimentare dolce fabbricato con le mani degli artigiani e questa edizione promette ha concluso di superare il record straordinario del 2016 con oltre 200.000 presenze di visitatori professionali il Tribunale di Ravenna ha sospeso dal lavoro un ispettore del lavoro della locale direzione territoriale perché accusato di un paio di episodi di assenteismo la singolare misura interdittiva della durata di 15 giorni è stata applicata ad un 58enne originario di Nardò in provincia di Lecce ma residente a Forli da tempo dipendente e ora indagato per truffa tentata truffa e falso il GIP sulla base della richiesta presentata alla procura di Ravenna ha rilevato che per il 58enne esiste un pericolo di reiterazione del reato in quanto l'ispettore è stato condannato in primo grado a inizio settembre scorso a due anni e mezzo di carcere perché riconosciuto colpevole di avere percepito tra il settembre 2008 e il maggio 2012 oltre allo stipendio anche un compenso per attività formativa extra lavoro in scuole Edili di Ravenna e di Bertinolo in provincia di Forlì e Cesè ed ora parliamo parliamo di sport il calcio e il Rimini domani va a bellare e Gioia Marino ci racconta tutto nel servizio Marcello Bartolini non sarà un impegno facile per il Rimini al Nanni domani il tecnico Mastro Nicola si aspetta un bell'aria combattivo agonisticamente pronto e preparato ma i Biancorossi hanno preparato la gara per vincerla perché la fame dei risultati l'abbiamo anche noi il Rimini va a far visita alla cenerentola del campionato con l'obiettivo di mantenere la testa della classifica fischio d'inizio alle 14.30 Bacchiocchi e Nanni sono recuperati Buonavventura e Fabri sono fuori in porta giocherà Scotti Ricchiuti partirà dalla panchina mi aspetto un bell'aria combattivo in ogni zona del campo una squadra affamata di punti confessa la vigilia nel consueto incontro con la stampa Alessandro Mastro Nicola la classifica per loro è brutta e quindi devono fare punti in qualsiasi situazione una squadra che in ogni reparto in ogni singolo giocatore evidenzia determinazione grande agonismo e con questo agonismo provano a creare grattacapi e qualsiasi formazione si trovano di fronte è accaduto due domenica fa a Nanni quando sotto di due gol in inferiuità numerica sono riusciti a rimettere in piedi una gara che sembrava persa dunque serve grande attenzione anche con l'ultima della classe per Mastro Nicola è un bell'aria cattivo agonisticamente pronto e preparato che vuole assolutamente portare a casa punti dall'altra parte trovo per una formazione quella bianco-rossa affamata di punti e smagnosa di vittorie dobbiamo pensare a noi tenendo in considerazione le qualità e le cose buone degli avversari ma vogliamo guardare bene in casa nostra poi un cenno al match di Coppa a mercoledì ci penseremo da domani sera liquida il tecnico parlando dell'imminente finale di Coppa Italia ed eccellenza con Rolo per Mastro Nicola si tratta di una partita importante per tanti motivi ma vogliamo fare un passo alla volta adesso siamo concentrati sulla gara di domani vogliamo fare bene col bell'aria poi ci concentreremo sul match con Rolo una pellicola per ricordare l'eccidio degli ebrei attraverso lo sguardo di Francesco Guccini autore della canzone del bambino nel vento entrata nella storia della musica come Auschwitz il film dal titolo Son Morto che ero bambino Francesco Guccini va ad Auschwitz è stato realizzato da Nene Grignaffini e Francesco Conversano con il sostegno della regione Emilia Romagna in occasione della giornata della memoria verrà presentato in anteprima Roma lunedì pomeriggio alla Camera dei Deputati l'opera spiega una nota sarà mostrata la presenza dei due registi della Presidente della Camera Laura Boldrini del Presidente della Comunità Ebraica Ruth Dureghello dell'Assessore della Cultura della Regione Emilia Romagna Massimo Mezzetti l'insegnante dell'Istituto Comprensivo salvo da questo ed ora invece come ultimo andiamo a vedere come sempre come sempre il sabato che cosa ci riserva l'agenda del weekend per quanto riguarda appunto gli appuntamenti del fine settimana vediamo l'agenda Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, il telegiornale termina qui. Vi ricordo come sempre che i nostri contenuti possono essere consultati anche online andando all'indirizzo www.telerimini.it dove è possibile seguire in diretta streaming anche il nostro telegiornale. Vi ricordo che l'informazione quotidiana torna a partire da lunedì e intanto a tutti voi una buona domenica.